Qual è quella cosa che abbiamo a casa che consuma tantissimo e mettiamo sempre in modalità eco? La lavatrice. Quindi proviamo a misurare la potenza consumata dagli oggetti intorno a noi in termini di lavatrici. Ad esempio, un batterio prokaryote consuma appena un milionesimo di miliandesimo rispetto a una lavatrice. Invece un oggetto di tutti i giorni, come può essere una lampadina LED, consuma appena un duecentesimo di lavatrice. Qui invece il nostro semplice rimanere vivi, mantenere l'omeostasi, mantenere la nostra temperatura, richiede all'incirca un venticinquesimo di lavatrice. Se invece noi potessimo immaginare di estrarre tutta la potenza di un'onda marina alta 3 metri, potremmo alimentare 20 lavatrici per ogni metro di onda. Invece, se volessimo utilizzare il vento, con una pala eolica potremmo alimentare centinaia di lavatrici. E invece con una centrale nucleare potremmo alimentare centinaia di migliaia di lavatrici. Se invece potessimo utilizzare tutto il sole, avremmo un numero di lavatrici incredibile, tipo 4 seguito da 24-0. Il data center che abbiamo a Trieste consuma all'incirca quanto 30-40 lavatrici, mentre il più grande data center italiano quanto 3000 lavatrici. Cosa hanno in comune lavatrici e data center? Fondamentalmente nulla, ma sono oggetti energivori. Vediamo quindi quanta energia viene consumata e non più potenza per fare semplici cose. Due ore di streaming su Netflix equivalgono a 10 minuti di lavatrice accesa, un lavaggio rapido. Sviluppare un nuovo farmaco, testare l'efficacia di un vaccino in una simulazione, richiede centinaia di lavatrici accese per 3 mesi. Allenare un language model da zero richiede migliaia di lavatrici accese per 6 mesi. Quindi ogni volta che noi utilizziamo un servizio cloud, accediamo a qualche super computer in giro per il mondo, stiamo accendendo veramente tante lavatrici e anche per una buona causa. Grazie.